Grazie a tutti. Alleluia, 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 alleluia. Il giorno al giorno ne affida il messaggio, la notte alla notte ne trasmette notizia. Non è linguaggio, non sono parole a cui non si chiedono. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi e con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, eccoci ancora una volta al nostro appuntamento domenicale, per il quale vogliamo ringraziare l'emittente Telemax che ci ospita. Di domenica in domenica stiamo andando sempre più verso la primavera inoltrata e l'estate. Perciò davvero, come ci ha invitato a fare il canto d'inizio, vogliamo lodare e ringraziare il Signore insieme ai Cieli, insieme al firmamento, insieme alla terra e a tutta la natura. Anche noi vogliamo risvegliarci, anche noi vogliamo far emergere le gemme che sono nel nostro cuore e nella nostra vita, perché sbocciati a una vita nuova, davvero possiamo lodare il Signore ogni giorno della nostra esistenza. Certo, siamo ancora costretti nelle nostre case. Domani comincia la fase 2, che è molto simile, ahimè, alla fase 1. La prudenza comunque ci deve guidare, come anche Papa Francesco ci ha ricordato. Ma questo non impedisce ai nostri cuori di fiorire, questo non impedisce alla nostra fede, alla nostra preghiera di esprimersi nella lode e soprattutto di esprimersi in questa celebrazione eucaristica, fonte e culmine della nostra vita di credenti. Essa è il modo attraverso il quale il Signore ci convoca a sé, ci fa ascoltare la sua voce e noi come le pecorelle di cui parla il Vangelo dobbiamo riconoscerla e dobbiamo metterci alla sua sequela, dobbiamo andargli dietro. Ringraziamo il Signore per tutte le volte che ci fa ascoltare la sua voce, per tutte le volte che si pone avanti a noi, facendoci da guida nel nostro cammino. E accettiamo di seguirlo. Ringraziamolo quindi per la parola, ringraziamolo per la sua presenza nell'Eucarestia, alla quale potete ancora partecipare solo spiritualmente. Ma ringraziamolo per la sua presenza nelle persone che ci circondano, quelle con cui condividiamo la vita di questo tempo. Anch'esse possono essere per noi voce di Gesù, voce del buon pastore. Anch'esse possono essere guardiano per ciascuno di noi. E, lodando e ringraziando il Signore, a Lui presentiamo le intenzioni di preghiera che abitano il nostro cuore. Preghiamo per noi, preghiamo per le nostre famiglie, preghiamo per le nostre comunità, preghiamo per l'Italia, preghiamo per il mondo intero, preghiamo per la Chiesa, per i vescovi, per i sacerdoti, per i diaconi, per i seminaristi, per tutti, perché oggi è anche la giornata mondiale delle vocazioni. Chiediamo al Signore il dono di tante vocazioni, al matrimonio, alle famiglie sante, ma anche di tante vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa, perché nel mondo di oggi non manchino pastori secondo il cuore di Dio. E al Signore presentiamo le nostre preghiere anche per chiedere perdono, per le nostre colpe, per tutte le volte che non abbiamo ascoltato la Sua vita, la Sua voce, per tutte le volte che non abbiamo fatto coincidere la nostra vita con la Sua, per tutte le volte che non lo abbiamo seguito. E riconoscendo i nostri peccati con umiltà, chiediamo al Signore di renderci più degni di celebrare questa Eucarestia, più capaci di vivere santamente la nostra esistenza. Pietà di noi, Signore. Contro di Te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. E donneci la Tua salvezza. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria, gloria in eccelsis Deo. Gloria, gloria in eccelsis Deo. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti odiamo, ti benediciamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. Signore, gloria in eccelsis Deo. Signore, Dio, re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, figlio unigenito Gesù Cristo. Signore, Dio, agnello di Dio, figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amén. Gloria, gloria in eccelsis Deo. Gloria, gloria in eccelsis Deo. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che nel Tuo Figlio ci hai riaperto la porta della salvezza, infondi in noi la sapienza dello Spirito, perché fra le insidie del mondo sappiamo riconoscere la voce di Cristo, Buon Pastore, che ci dona l'abbondanza della vita. Egli è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli Nel giorno di Pentecoste, Pietro, con gli undici, si alzò in piedi a voce alta, parlò così Sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo Gesù. Per voi avete crocifisso. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri Apostoli, Che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, la promessa è per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani. Quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro? Con molte altre parole rendeva testimonianza e gli esortava Salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa tremila persone. Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valla oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Si bontà e fedeltà mi saranno compagne, tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo Carissimi, se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo, infatti, siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi. Lasciantevi un esempio, perché se seguiate le orme, Egli non commise peccato e non si trovò in canno sulla sua bocca. Insultato non rispondeva con insulti. Maltrattato non minacciava vendetta, ma si affediava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siamo stati guariti. Eravate errati come pecore, ma ora siete stati ricondotti dal pastore e custodi delle vostre anime. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia! Io sono il buon pastore, dice il Signore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Alleluia! 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 Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Glorie a te, oh Signore. In quel tempo, Gesù disse, In verità, in verità, io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore ciascuna per nome e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti ad esse. E le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Un estraneo, invece, non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo, In verità, in verità, io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore. Lode a te, O Cristo. In questa domenica, la quarta di Pasqua, ogni anno viene letto un brano del capitolo 10 del Vangelo di San Giovanni. Il capitolo in cui Gesù presenta se stesso prima come la porta delle pecore, lo abbiamo ascoltato poco fa, e quindi come il buon pastore, il pastore bello. E fa di se stesso un modello per ogni pastore, per ogni persona che nella Chiesa e nella società è chiamato a ruoli di responsabilità e di guida. Vorrei dire che oggi il Signore sta parlando di Papa Francesco, di noi Vescovi, dei sacerdoti, ma sta parlando anche dei diaconi, dei genitori, delle autorità, di coloro che appunto, avendo una responsabilità nel mondo, sono chiamati ad essere guida. Siamo noi porta attraverso la quale le persone possono passare in sicurezza? Siamo noi porta attraverso la quale le persone possano entrare per avere la salvezza e possano uscire per andare verso pascoli buoni, verso erba fresca, verso erba verdeggiante, verso acqua fresca. Siamo noi persone attraverso le quali si può passare per andare verso la vita e verso la pienezza della vita. O forse siamo mercenari, persone che si avvicinano alle pecore non per servirle, ma per servirsi di esse. Siamo persone che si avvicinano alle pecore per esercitare su di loro un potere smodato, per approfittarci di loro, della loro disponibilità, della loro fiducia. Sembra desueta ai nostri tempi l'immagine del pastore e delle pecore. Non era così nell'antichità al tempo di Gesù. Però un po' lo possiamo recuperare questo esempio e forse lo possiamo recuperare soprattutto quest'anno in questa situazione così particolare che stiamo vivendo. Del resto la storia dell'uomo è piena di favole, di insegnamenti che attingono al mondo degli animali e della natura. Non è quindi solo la religione ma è la sapienza popolare che si rifà agli animali e alla natura. Dio nell'Antico Testamento presenta se stesso come il buon pastore. Lo abbiamo ascoltato nel Salmo responsoriale e Gesù che è Dio fra noi dice di sé appunto di essere il buon pastore e tutte le autorità antiche erano paragonate al pastore. Anzi se proprio vogliamo andare fino in fondo fra i pastori reali quelli che concretamente esercitavano questo mestiere le autorità venivano scelte. Abramo era un pastore Giacobbe era un pastore Isacco era un pastore Mosè era un pastore Davide era un pastore. Ci sono sempre stati però pastori buoni e pastori cattivi. Il profeta Ezechiele ha delle pagine stupende ma nello stesso tempo anche inquietanti a proposito dei pastori che si approfittano del gregge. Dice di loro che prima prendono dal gregge il latte poi prendono dal gregge la lana e quindi prendono la carne la vita stessa. Questi dice il profeta Ezechiele non sono pastori buoni non sono per usare un'espressione del profeta Geremia pastori secondo il cuore di Dio ma sono mercenari da essi bisogna stare lontani. Sono quei pastori che ti chiudono in recinti e ti fanno mancare l'aria e non ti fanno più uscire. C'è bisogno di Gesù il pastore bello il pastore buono che viene e ci permette di uscire con lui davanti per andare verso i migliori pascoli per avere in dono la vita e averla in abbondanza. Dicevo che l'esempio degli animali può essere desueto ma che lo potremmo recuperare. Certo se ci dicono tu sei un'aquila noi lo prendiamo come un complimento. L'aquila vola in alto nel cielo l'aquila ha una vista acutissima se ti dicono che sei un'aquila ti stanno dicendo che voli alto che vedi lontano ma se ti dicono sei una pecora sei un'oca non credo che lo prendiamo come un complimento. Se ci dicono che abbiamo gli occhi da tigre ci sembra un complimento se ci dicono che siamo come il leone il re degli animali lo prendiamo come un complimento ma se ci dicono sei testardo come un mulo non credo che lo prendiamo come un complimento. La pecora è un esempio non positivo nella mentalità comune del resto il nostro poeta più grande dice che siamo chiamati ad essere uomini e non pecore matte. la pecora ha smesso di essere quella che il buon pastore porta sulle spalle ed è diventata l'immagine di colui che non tanto ragiona con la sua testa di colui che segue l'onda della vita si dice che le pecore se la prima va in una direzione tutte vanno in quella direzione appunto come le pecore e l'esempio della pecora l'esempio del gregge è tornato in questo tempo di calamità in questo tempo di coronavirus oggi noi sentiamo parlare di immunità di gregge ecco l'esempio del gregge ecco l'esempio delle pecore ancora una volta non in chiave positiva qual è la bellezza di Gesù che Gesù non vede nelle sue pecore tutte persone una uguali all'altra non vede lo stampino non vede il gregge vede ciascuno nella sua originalità vede ciascuno nella sua personalità viene ciascuno nella sua individualità le conosce ad una ad una e chiama ciascuna per nome ci ha detto il Vangelo ecco allora come Gesù ci concepisce ecco perché non deve essere per noi una cosa negativa sentirci oggi paragonati alle pecore Gesù è il pastore che dà la sua vita per le pecore non è il mercenario che viene a prendersi la vita delle pecore Gesù non vuole né il nostro latte né la nostra lana né la nostra carne ci dà tutto se stesso ci dà la sua carne perché noi possiamo essere salvati e Gesù vuole che noi impariamo a stare nel recinto ma che noi impariamo anche ad uscire Gesù vuole che noi possiamo fare esperienza della sicurezza della salvezza che possiamo sperimentare nel recinto ma vuole anche che i nostri orizzonti si amplino vuole anche che noi usciamo insieme con lui del resto Papa Francesco non perde occasione per richiamarci alla necessità di essere chiesa in uscita di essere chiesa che va per le strade chiesa che abita il mondo dove abitano le persone a volte è semplice a volte è difficile a volte ci adagiamo questo tempo particolare ci ha costretto a pensare nuove modalità per essere pastori e per raggiungere le pecorelle ci ha costretto a farci funzionare la testa e il cuore per trovare il modo di far sentire la nostra voce e di ascoltare la voce degli altri e quanto è fondamentale la voce in questo tempo quanto è importante poter sentire almeno la voce di chi ci sta lontano e come accettiamo con difficoltà le interruzioni di essa se siamo al telefono e cade la linea se siamo collegati su Skype o su un'altra delle tante piattaforme e non funziona bene la voce arriva a salti ci dà fastidio pure questo non solo non posso vedere non solo non posso abbracciare non solo non posso toccare non posso nemmeno sentire l'importanza della voce l'importanza del riconoscere la voce di chi è per noi salvezza di chi è per noi opportunità di chi è per noi occasioni di bene e di vita e di vita in pienezza è bellissimo che in questo tempo Gesù ci indichi la vita e la vita in pienezza è bellissimo che Gesù ci indichi di non accontentarci di non avere visioni corte di non avere desideri piccoli ma di avere desideri grandi di avere occhi che vedono lontano di avere cuori spalancati sulle opportunità lui è venuto a darci la vita e a darcela in abbondanza certo all'inizio il recinto ci ha dato l'idea della sicurezza ci ha dato l'idea del riposo ci ha dato l'idea di qualcosa che ci garantiva i primi giorni di questo periodo li abbiamo vissuti quasi nella spensieratezza cantando sui balconi facendo cose belle simpatiche che ci permettevano di trascorrere quasi in serenità le prime giornate ma poi il prolungarsi di questo tempo il continuare a stare nel recinto il continuare a stare dentro le quattro mura di casa nostra piccole o grandi che possano essere le nostre case a un certo punto ci sta cominciando a dare se non ci ha già dato l'idea della oppressione l'idea dell'aria che manca l'idea che se non usciamo ci manca qualcosa di fondamentale e questo è tanto vero che ognuno si inventa una possibilità per poter uscire i giornali i telefoni sono pieni di vignette e di meme che ci indicano la grande fantasia degli italiani e degli uomini e delle donne in genere per poter uscire quanto è importante l'uscire e Gesù è venuto a dirci che attraverso di Lui si entra e si esce dobbiamo anche saper uscire certo non vediamo l'ora di uscire non vediamo l'ora di uscire per poter riprendere la nostra vita quotidiana per poter tornare a lavorare in serenità per poter tornare a divertirci in serenità e anche per poter tornare a celebrare in serenità potendo partecipare insieme alle eucarestie alle sante messe alle altre celebrazioni non vediamo l'ora di uscire ricordiamoci però che questa uscita come Gesù ci ha detto oggi è per la vita in abbondanza è per la vita in pienezza non limitiamoci al bagno non limitiamoci alla passeggiata non limitiamoci al caffè o a qualunque altra cosa non limitiamoci nemmeno agli incontri con le persone a cui vogliamo bene e che ci vogliono bene ampliamo gli orizzonti verso una vita ancora più piena verso una vita che possa davvero riempire il nostro cuore e allora seguiamo Gesù il buon pastore attraversiamo Gesù che è la porta impariamo a riconoscere la sua voce e a farci fremere il cuore già solo intuendo che ci sta parlando e accogliendo la sua voce nella nostra vita impariamo a veder chiaro a veder lontano come l'aquila impariamo a fare gli occhi da tigre di fronte alle difficoltà e impariamo a lasciarci condurre come pecore docili al migliore dei pascoli che lui ha pensato per noi alle più fresche delle acque perché possiamo essere ristorati e fare esperienza di lui che è vita via e salvezza nostra grazie a tutti Gesù, il buon pastore che vuole guidarci oggi ci chiede di fidarci di Lui e perciò ci chiede di riprofessare la nostra fede in Lui e nel Dio che Lui ci ha rivelato credete in Dio Padre Onnipotente Creatore del cielo e della terra credo credete in Gesù Cristo suo unico figlio nostro Signore che nacque da Maria Vergine morì e fu sepolto è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre credo credete nello Spirito Santo la Santa Chiesa Cattolica la comunione dei Santi la remissione dei peccati la risurrezione della carne e la vita eterna credo allora di volta in volta ripetete con me questa è la nostra fede questa è la nostra fede questa è la fede della Chiesa questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore in Cristo Gesù nostro Signore Amen Fratelli e sorelle a Cristo buon pastore di tutto il popolo cristiano affidiamo la nostra vita la Chiesa e il mondo intero preghiamo insieme diciamo Signore buon pastore ascoltaci Signore buon pastore ascoltaci per il Papa il nostro Vescovo i sacerdoti e tutti coloro che hanno una responsabilità verso il popolo cristiano siano attenti e saggi premurosi e coraggiosi nella loro missione noi ti preghiamo Signore buon pastore ascoltaci per tutte le comunità cristiane nel mondo perché possono contare sempre sulla presenza di un sacerdote per nutrirsi della grazia dei sacramenti e non si disperdano come pecore senza pastore noi ti preghiamo Signore buon pastore ascoltaci per le vocazioni sacerdotali e religiose possono essere generosi la risposta dei giovani alla chiamata del Signore la nostra preghiera e il nostro sostegno a favore delle vocazioni e in particolare per il seminario non vengano mai meno noi ti preghiamo Signore buon pastore ascoltaci per la nostra comunità perché sia sempre capace di testimoniare l'amore verso il buon pastore attraverso uno slancio di carità di accoglienza verso i deboli e gli smarriti senza patria e senza tetto noi ti preghiamo Signore buon pastore ascoltaci O Signore che guidi il tuo popolo come pastore buono e premuroso ti affidiamo le nostre preghiere e le nostre intenzioni trasformale secondo la tua volontà e portale a compimento per il bene della Chiesa e del mondo intero tu che vivi e regni nei secoli dei secoli amè le tue mani sono piene di fiori dove li portavi fratello mio li portavo alla tomba di Cristo ma l'ho trovata vuota sorella mia Alleluia 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 I tuoi occhi riflettono gioia dimmi cosa hai visto fratello mio ho veduto morire la morte ecco cosa ho visto sorella mia Alleluia 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 Pregate sorelle e fratelli perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente Signore Signore diceva delle mani questo sacrificio all'ode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa O Dio che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia per Cristo nostro Signore il Signore sia con voi in alto i nostri cuori rendiamo grazie al Signore nostro Dio è veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza proclamare sempre la Tua gloria o Signore e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo nostra Pasqua si è immolato per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della luce e si aprono ai credenti le porte del Regno dei Cieli in Lui morto è redenta la nostra morte e in Lui risorto tutta la vita risorge per questo mistero nella pienezza della gioia pasquale l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'imno della Tua gloria Santo 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 è il Signore Dio dell'universo i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria benedetto 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 colui che viene nel nome del Signore oh che viene oh Padre veramente Santo a Te la lode da ogni creatura per mezzo di Gesù Cristo Tuo Figlio e nostro Signore nella potenza dello Spirito di Gesù Cristo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a Te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al Tuo nome il sacrificio perfetto ora ti preghiamo umilmente manda il Tuo Spirito a santificare i doni che Ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo Tuo Figlio e nostro Signore che ci ha comandato di celebrare questi misteri nella notte in cui fu tradito egli prese il pane ti rese grazie con la preghiera di benedizione lo spezzò lo diede ai Suoi discepoli e disse prendete e mangiatene tutti questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi di benedizione Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede Celebrando il memoriale del tuo figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con Santo Maso e gli Apostoli, i gloriosi martiri, Santa Lucia, Filippini e tutti i Santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, me indegno tuo servo, il collegio dei Vescovi, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amén. Quanto è importante la sicurezza di una voce lo stiamo sperimentando in questo tempo. Vogliamo parole sicure, vogliamo parole che ci donino la vita, parole che ci esprimano interesse, cura e attenzione. E allora, casomai, saltiamo anche da un canale all'altro, da un sito all'altro, per sentire parole e voci di coloro che ci sembrano i più capaci, i più bravi, che più si prendono cura di noi. Oggi è Gesù il nostro modello. È Gesù la porta per la quale dobbiamo passare. È Gesù il pastore buono e bello che ci guida alla sicurezza dei pascoli migliori, alla vita piena. È Gesù che ci rivela la paternità di Dio, che deve mettere serenità sufficiente nel nostro cuore per affrontare ogni difficoltà, anche le più grandi, come quelle che stiamo affrontando in questo tempo. Fidandoci di Gesù e facendo nostre le parole che ci ha insegnato, insieme preghiamo. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Con un cenno degli occhi, con un sorriso, scambiamoci nello Spirito di Cristo risorto un gesto di pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbia pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbia pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, donna a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, sono degna di partecipare alla tua menza, ma di soltanto una parola e Dio sarò salato. Grazie. Grazie. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Il Signore, mio pastore, nulla manca ad ogni attesa. In verdissimi prati, mi pace, mi disseta placi e acque. Il risoro dell'anima mia, in sentieri di ritmi, mi guida. Per l'amore del Santo Suo nome, dietro a Lui mi sento sicura. Forse andassi per valle oscura, non avrò a temere alcun male. Perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo incastro. Preghiamo. Custodisci benigno, Dio nostro Padre, il gregge che hai redento con il sangue prezioso del tuo Figlio, e guidalo ai pascoli eterni del cielo. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio, e Spirito Santo. Amen. Andate e portate a tutti l'annuncio che il Signore è risorto. Alleluia, alleluia. Prendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia. Regina Ceri, lecare, alleluia. Quia, que meruissi portare, alleluia. Alleluia, alleluia, ora pro nobis Deu, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.